Posso raccontarvi che sono andato alla spada durante il famoso Spring Break o che ho fatto la festa in Ibiza con David Guetta o che sono andato in Marocco però non è vero non avevo avuto un Spring Break Allora vi racconto un viaggio che abbiamo fatto a Cinquetere qualche settimana fa e come Tony dice è vero il viaggio era molto fuoco siamo andati con un gruppo di amici Come ti chiami? Hello Come ti chiami? Abbiamo fatto una bella cammina è giusto Kevin? Yaaaah Grazie per la tua risposta Cinquetere è veramente bellissimo La cammina era molto duro però siamo sempre felice di essere qua Vero Kevin? Aaaaaaah La giornata era perfetta non ha fatto troppo caldo però non troppo freddo Dopo una lunga cammina abbiamo fatto una pausa a Manarola come ti senti Tony? come ti senti Tony? Grazie, Tony. E tu, Kevin? Come si dice 100% in 15 lingue diversi, perché è quello che mi sento adesso. Sono top of the world, homie. Sì, sai quello che è. Oh, Madonna. Scusa per il mio amico Kevin. È un po' speciale. I mean... È un po' di serietà. 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 Dai, un po' di serietà. Il tramonto a Cinque Terre era splendida. È un'esperienza extraordinaria. Domenica siamo andati a Genova e abbiamo visitato il famoso acquario. Ho incontrato il delfino di Cuba. Si chiama anche Robin. Nonostante che non ho avuto un Spring Break, in questo semestre ho fatto tantissimi ricordi che non dimenticherò mai. è un po' di serietà. È un po' di serietà. Grazie a tutti.